E' nato via! E' nato via! E' nato via! Oddio! 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 Vieni i poli! Vieni i poli l'ho portato! Vieni! Oddio! Ma quanti erano ali! Oddio! Oddio! E' emozionata! Anche questo! Guarda! Ce n'è ancora! Anche questo! Vedi? E' da aprile! E' bravissimo! E' bravissimo! E' bravissimo papà Natale! Vediamo un po' che c'è lì dentro! Un altro bello! E' bravissimo! Oddio! Bellino è! Ce n'è l'altro là! Ce n'è lì dentro! Vieni! 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 thick! E' piaciuta spiegare! Ma sei stata buonissimo allora! Ecco quanto te l'ha portata! Oh, anche quello! Oh, anche quello! Oh! Anche quello! Anche quello! Anche quello, regala quella po' la bambola eh! Quello che gli ho regalato! Si! Dai Oscar! che bella robina guarda lì anche la passata bella accidenti i pantaloncini della terra come sono grossi li stanno c'è il cartellino pura cosa forse è questo è Daniele Martinelli forse Emma 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 no ma uno è il mio guarda c'è anche quello grosso ma fagli vedere la roba che gli interessa vai fagli vedere i giocattoli fa la giocattola la bambola polino che? polino è la roba che è? è questo guardiamo guardiamo è buona è buona è buona è buona un diputino poi la bianca scappa la pipì scappa la pipì scappa la pipì vediamo si va a fare vai a farla vai dai Grazie.